Ciao ragazzi di Cobblast e bentornati con un gameplay su una Zoom Eleven 3 ogre Non giocavo a questo gioco da almeno un anno se non di più E l'ultimo video in realtà fu una live legato proprio all'ultimo capitolo Con oggi non voglio ricominciare nessun tipo di gameplay Ma è semplicemente un modo per accontentare tutti coloro che vorrebbero Dopo una Zoom Eleven 2 Una guida l'ennesima su una Zoom Eleven 3 La mia risposta continua ad essere un no negativo Però mi piacerebbe ogni tanto portarci delle live Quando sarà di mia scelta, di mio interesse durante l'estate, l'autunno e stagioni anche successive Per cui il formato live rimarrà su questo canale E una Zoom Eleven 3 potrebbe essere coinvolto Però non mi interessa, lo ripeto, fare una guida in stile una Zoom Eleven 2 appena terminata sul 3 Per motivi tra i punti sparati L'ho già fatta, quindi perché dovrei rifarla E poi il 2 ha un valore affettivo Morale, di scelta personale Che è l'unico gioco che davvero mi ha dato e continuo a darmi tanto Dunque, per commemorare comunque, per dare il contentino anche a chi in qualche modo ha amato una Zoom Eleven 3 A me è molto piaciuto, ma non a tal punto di rifarci una guida Rifarci un gameplay Mi piacerebbe comunque fare delle amichevoli Tra l'altro amichevoli che non ho mai fatto Basti pensare appunto Queste dal torneo di David Evans Ecco, diciamo che la particolarità di questa sfida Così come delle prossime Non so quante ne farò oggi Ma in generale delle future E che io in una Zoom Eleven 3 l'ho sempre giocato E lo ricordo bene, tante volte La trama Ma le amichevoli secondarie extra Assolutamente no Non le ricordo Tra l'altro la squadra è quella che è E' semplicemente quella che abbiamo utilizzato all'interno della trama Né più né meno Mentre Lost Stars d'Asia E' una squadra decisamente più scarsa Ma che comunque va fatta prima o poi E quindi mi son detto Perché no In qualche modo Unire l'utile al dilettevole Cioè Andare a Fare comunque un amichevole Che a me manca Che prima o poi dovrei fare Unendo comunque il tutto Con un video Che spero possa far piacere A chi ha amato Questo gioco Io ora mi trovo un po' in difficoltà a giocare Perché dovete sapere Che per quanto la Zoom Eleven 2 Per voi è finito Pochi giorni fa Su questo canale In realtà Con me Ho registrato molto tempo prima E nel mentre ho fatto dell'altro Ecco Non ho giocato in Zoom Eleven 2 Fino ad oggi Fate conto che il gameplay di Zoom Eleven 2 Per me era terminato A metà marzo E voi l'avete visto finire adesso Quasi fino aprile Per darvi giusto una linea temporale Quindi Vedete un po' arrugginito Sicuramente per quanto Ecco vedete Anche questi passaggi Questo vabbè Sono io stupido E tra l'altro È anche Quasi luna di notte Però Avevo questa impellente voglia Di registrare questo video Visto che domani mattina Anzi ormai La mattina che verrà Non ho da andare a lavoro E quindi mi sono concesso Questo sfizio personale Anche perché Ritenevo giusto Fare un video Di risposta E ora Argomenterò Perché magari qualcuno mi dirà Ok non ti interessa fare Il gameplay Perché tu lo hai fatto precedentemente Già È solo questo? Beh ovviamente Principalmente sì A me il gioco Che me l'ha inventato E' chiaro e piaciuto Perché Comunque Fa parte Chiude il cerchio Dalla vecchia trilogia Un cerchio importante Football Frontier Alieni E poi mondiali Quindi Il top Qui vediamo tutti i giocatori I più forti Uniti Contro Il mondo In questo caso Il Giappone Quindi sicuramente È un ottimo gioco Sotto la punto di vista Della trama Però Inazuma Eleven 2 Mi ha lasciato Molte più emozioni Molte più sentimento Molte più soddisfazioni Anche Perché per me Inazuma Eleven 2 Fu il mio primissimo gioco Di Inazuma Eleven Buffera di neve Prima ancora Di che io scoprì Che effettivamente Era già il secondo capitolo E che conseguenza Andasse comprato E andasse giocato Prima Inazuma Eleven 1 Ma al tempo Non lo conoscevo Perché io iniziai A conoscere l'anime O meglio Il mondo Inazuma Eleven Grazie al secondo capitolo Che ricordo ancora In pubblicità Nel 2008-09 Io vidi Quindi parliamo Di 13-14 anni fa Prima ancora Che io apri il canale Probabilmente Di Master Pokemon 5000 Per cui Il Proto Blaster HD Che si stava approcciando A mondo YouTube Un mondo al tempo Ragazzi Bellissimo Io Chiamatemi Boomer Chiamatemi Vecchio Antico Però per certe cose Sì sono fiero Di esserlo Io preferivo Il mondo Come era prima Essendo che l'ho vissuto E me lo ricordo Non posso Fare un confronto Lira Euro O vecchio Millennio Nuovo Non è giusto Sarei ipocrita Non me lo ricordo Sono del 98 Sì ma Non è che io so Queste cose qua Ero troppo piccolo A priori O comunque Non lo manco Certe cose Però posso dirvi Che giocare Al Game Boy Al DS Era Ed è tuttora Un'emozione Che non può essere Paragonata A giocare con i telefoni Per me giocare A Candy Crush Che è l'unico gioco Che ho su telefono Da sempre Non ho mai Disinstallato Non l'ho mai tolto È sempre rimasto Ho camminato i telefoni Ma poi l'applicazione L'ho sempre installata Non mi dà la stessa emozione Di giocare a Pokemon Di giocare a Mario Kart Giocare in Azumereven Giocare a Super Mario Bros Assolutamente Io ricordo i collegamenti Che facevo con mia sorella Mi divertivo un sacco A giocare a Super Mario Bros Era veramente bei tempi Scusate se ogni tanto Cado Nel tranello Del passato Ma Anche questo Fa parte di me Ed è giusto condividerlo Magari qualcuno Può far piacere Sicuramente Fa piacere A coloro Che Hanno vissuto quel periodo Come me E Parliamo del periodo Comunque Nel Zoom Eleven 1, 2, 3 Poi il Go Era un pochino Più grandicello Avevo già 16 anni Quando uscì in Italia Circa Forse 15 Ma Stavano già arrivando i telefoni Stava già arrivando La tecnologia smartphone E il mio primo telefono Più o meno arrivò A quell'età lì Se penso che ora I primi telefoni Ce li hanno I bambini dell'asilo Io vedo I bambini dell'asilo Che escono da scuola Con la propria mamma O papà Col telefono in mano Cioè Io non avevo manco Il Game Boy Alla loro età Però in ogni caso Game Boy Era un premio Poterlo giocare All'età di 7-8 anni Poi avevo Il Nintendo E il mio amore Io non sono un fan Delle console fisse Sono un fan di Nintendo Ma non Switch Sono un fan di Nintendo DS Il portatile Dual Screen DS Dual Screen Per me Nintendo nasce così E muore così La Switch È la mia È ancora in vendita Tra l'altro È lì Che attendo Un nuovo proprietario È modificata Non la utilizzo È comunque Dentro una scatola In modo che non prenda polvere Ogni tanto L'accendo Per vedere Funziona ancora E va tutto bene Tutto questo grande discorso Per dirvi Che sono un amante Del Nintendo Un amante Nel Zoom Eleven Del passato In generale E che quindi Per ricollegarmi Di cosa precedente Io non disdegno Nel Zoom Eleven 3 Anzi Mi è piaciuto Continuo a dirlo Però Se devo paragonarlo In Zoom Eleven 2 Siamo su due mondi separati Devo metterlo in classifica Il 2 È il mio gioco preferito E quindi Mi sono permesso Essendo comunque Anche il mio il canale Ecco Di voler portare In Zoom Eleven 2 In maniera completa A parte Ecco Una serie di Piccole cose Che potrebbero effettivamente Essere ancora realizzate Magari nei commenti Di quell'ultimo video Qualcuno sarà rimasto male Sicuramente Perché Comunque Finire una serie Alla parte 63 Cavolo Uno dice Vorrei che non finisse mai Beh Sappiate che ogni cosa Bella Che si definisce bella Deve avere una sua fine È un po' come la collezione Di fumetti O Come la collezione Di qualsiasi altra cosa Come un Tuo desiderio Prima o poi Deve avere un fine Se vuoi che si realizzi No Tanti filosofi Tanti Personaggi Del mondo antico Ora non so bene chi Ma in generale Si dice che In tanti Ecco pensavano Che Da più piacere L'attesa Del piacere Che il piacere Stesso Quindi il fatto Di attendere Il fatto di giocare Un qualcosa Di collezionare È più piacevole Di poter dire Ho finito Ho terminato Il gameplay Ho fatto La collezione A quanto pare È così È vero Perché io A distanza di qualche giorno Per voi Rispetto a Inazuma Eleven 2 Posso dire Che Mi manca Già Non vedrò più Sul canale Posso capire La vostra Frustrazione Diciamo Ma perché qui Mark Non ha Non ha fatto La tecnica Boh Non è stata Manco messa In discussione La parata Vabbè Significa che Non poteva andare In porto Non lo so Quindi Ammetto Che in pubblica piazza Che potrebbero Eserci Delle live Future Non Non si parla Di qualcosa Di adesso Ovviamente Ma con il tempo Posso permettermi Non in questi giorni Insomma Di andare avanti Con la zoom Eleven 2 Con la mappa contatti Con il road To level 99 Insomma Classico road To Insomma La squadra 99 Qualche reclutamento Che abbiamo fatto Di recente Da poter allenare Insomma Mi piacerebbe Platinarlo Lo dico qua E la zoom Eleven 2 Sarebbe il mio sogno Più ancora che Galaxy Perché Galaxy È più un sogno Da ragazzo Adulto Cresciuto Il poterlo giocare Il poterlo platinare Ma la zoom Eleven 2 È il sogno Di me da bambino Poterlo completare Il 100% E quindi Mi ricollego La differenza Tra la zoom Eleven 2 E 3 L'avete ben capita Sta proprio Nel ricordo Personale Che ne ho Di entrambi i giochi La zoom Eleven 3 Mi è piaciuto Ma non Da tal punto Del 2 Non riuscirei A realizzare 63 parti Su la zoom Eleven 3 Tra l'altro Poi Ogre Che è un gioco Anche più complesso Rispetto Di poterla sfidare In live In live E portare avanti Il gameplay Dunque Parlando della partita 5 a 0 Contro Allstars Dasia Sicuramente Ecco Vi ripeto Mi interesserà Fare delle live Sul 3 Così come sul 2 Perché io preferisco Avere i giochi Finiti E poterci Poi giocare A caso In live Il fatto che io Fino a qualche mese fa Possedevo solamente CS Galaxy Come materiale Da live E una zoom Eleven 1 Se vogliamo Beh ora abbiamo anche Il 2 e 3 Potenzialmente Con questa mia scelta Personale E tra l'altro Le live sono anche Più intrattenenti Forse Perché per quanto Io debba stare Magari più attento Al pubblico Rispondere Eccetera Posso spaziare Su molti argomenti Invece io qua Devo trovarmi A volte anche un po' In difficoltà A parlare Proprio A forza Talvolta Bene Qua si rimane Ai livelli Classici Anche perché la squadra Era molto scarsa 46 Andiamo avanti Brigata Broken Anche qua Boh Non ho proprio idea Di che giocatori siano E di che squadra Dunque sia Anche lo sema Non mi dice niente Quello dell'avversario Ovviamente Noi siamo sempre Siamo sempre noi Ovviamente Mentre l'avversario Importa Welger Müller No Sembra la Germania Tipo Potrebbe essere la Germania Ragazzi Che saprevo questa idea Che effettivamente Era Ed è una squadra Che ha partecipato Mondiali Mondiali Però che Non arrivo mai Alle fasi gironi Perché uscì prima Ma secondo me È la Germania Questa È nata a Francoforte O è la Svizzera O la Germania Francoforte dove sta? In Germania No? Frankfurt Pare di sì Eh sì È Sì sì Berlina È tedesca Qua c'è scritto Viene da Brema È interessante Ragazzi Questa storia Non me l'aspettavo Che ci fosse la Germania Come amico card Eh sì Come amichevole All'interno del post game Eh sono cose che vedete Non pensavo Qui Come al solito Perché capita spesso Sbaglio il passaggio Lo creo troppo lungo Per fretta personale Lo voglio concludere E questo è il risultato Ma noi abbiamo ragazzi Un Un trio D'assi Un C'è tre giocatori Fortissimi Fortissimi Qui davanti Che secondo me Riusciamo a segnare Eppure col Riccio della tigre Che comunque è V3 A suo tempo Era Il livello massimo Di certe mosse Poi si sa Arrivò il V4 E anche il V5 Poi addirittura In Galaxy Il livello Omega Vabbè O infinito che sia Sì Riusciamo a fare pure qualcosa D'altro nella quadra Ripeto È al 46 Noi siamo all'80 Circa Però sono rimasto sorpreso Perché non mi aspettavo Cioè Nei miei pensieri Avevo proprio rimosso Il fatto che ci fosse la Germania Uno E che magari è anche reclutabile Non lo so Negli altri giochi Nei futuri giochi Poi non lo è Perché non l'ho mai visti io Quindi penso Non sia reclutabile la Germania Negli altri giochi Qua non ho idea Perché se le hanno inseriti Potenzialmente farli reclutare Non è manco così complesso Non dovrebbe essere così difficile Insomma Però è un po' come dire Le vecchie glorie Sono Zoom Eleven 2 Non si possono reclutare Eppure le puoi sfidare O anche Dark Emperors O banalmente King e Samford Chiamiamoli dopati Ci sono Ma non è che posso reclutarli Anche se Le hanno appunto creati Per l'amichevole Quindi non lo so Sarebbe diciamo carino Poter reclutare Anche i giocatori della Germania Ma così come Di fatto Giocatori anche Delle altre squadre E ancora non ricordo Chi esse siano Però in effetti Mentre giochiamo Possiamo andare a vedere Tramite Google Cercare Football Frontier International E vedere Tutti i gironi Che c'erano Per capire un attimo Come è funzionato Perché non me lo ricordo Proprio Allora nel girone A Vi era L'Orfeo L'Azuma Japan L'Argentina L'USA E l'Inghilterra Mentre E le abbiamo giocate Tutte queste 4 Che vi ho detto Appunto Oltre il Giappone Perché era un altro girone Nel girone B Invece il Brasile Che l'abbiamo giocato Di Robingo Il Congo Che in realtà Sarebbe il Kotarl Che però Non ho mai capito Perché si è voluto Rendere fittizio Il nome E li conosciamo Poi I francesi Non mi ricordo Se effettivamente Li abbiamo battuti Li abbiamo visti battere Non lo so E poi c'è appunto Spagna E Germania Che Che non le ricordavo Eppure ci sono Quindi è probabile Che dopo la brigata Broken Che poi chiamata Brokenborg Ufficialmente Come nome Ci sia anche la Spagna E tra l'altro Leggo sotto Anche Le eliminate Nei preliminari Ovvero L'Australia Il Qatar La Corea del Sud E di queste Ricordo bene Il Qatar Perché vi era Dolphin Oppure era Nella Australia In ogni caso Uno dei due Lo ricordo La Corea del Sud Con Choi Ma pure con Byron Love L'area bassa udita Non la ricordo Può essere Che non l'abbiamo battuta Boh Anche se qui C'è proprio una pagina Collegata Quindi La Barracuda Che squadra è No Non l'abbiamo battuta Non me li ricordo Sti qua io Assolutamente Poi Red Viper Dell'Uzbekistan Anch'essi Non me li ricordo Infatti Si sa solo Che hanno perso Contro il Fire Dragon Cioè contro La Corea del Sud La Thailandia Questa squadra Non si è mai vista Né nell'anime Né nel gioco Eppure È stata inserita Beh intanto Perdonatemi Se io qua Non sto giocando Bene Ma d'altronde Fan da soli Sono grandi Per fare da soli E poi I Re Mediani La Cina Che anche qui Non si è mai vista Né nel gioco Né nell'anime Ma si sa Che esiste Oddio Hanno fatto tanto Che Jack Si è riuscito a rialzare Incredibile Sta storia Erano in dieci Ad una Jack Jack era per terra E ha avuto Il coraggio Di rialzarsi Anche dopo Tutto il tempo In cui Gli ronzavano Attorno Gli avversari Vabbè E poi Abbiamo anche Un'altra squadra Dell'FFI Ovvero Il Sud Africa Che anch'esso Onestamente Non ricordavo Che esistesse Bravo Sean Mi aspettavo Tu ci fossi qua Ovvero The Great Horn Che però Già una pagina Che in realtà Una squadra Che dovremmo conoscere Non appare Nell'anime Ma può essere Affrontata Nel terzo gioco Comparano con David Evans Ah bene Quindi La squadra Del Sud Africa La potremmo andare A battere Però anche qui Dubito che possiamo Reclutarli Perché sono giocatori A caso Non li ho mai visti Eppure Qualcuno li ha creati Nella level 5 Si è messo lì E ha voluto Crearli Vi vedo un attimo Allora I Brockenborg Cioè quelli Che stiamo battendo Purtroppo Non so se possiamo Reclutarli Dubito Anche se Qualche pagina Sui giocatori C'è Come Jonas Polk Che dovrebbe essere Il capitano Della Germania Che non ricordo Nessuno Però in realtà È apparso Nell'episod 68 Durante una partita Eccolo qua Quello lì in alto Polk Ove però perde Contro l'Inghilterra Cavali della regione Buona sapersi Io certe cose Non me le ricordavo E fa bene Alla memoria Ricordarsi Anche queste piccole cose Dunque 3 a 0 Per il momento Non so se farò Ancora una partita Dopo di questa Dubito Comunque Volevo fare questo video Solo per rispondere Alla fine A quella domanda Che in tantissimi fate Che comunque capisco Io comprendo Dopo 60 parti Vi ripeto Di un gioco Tra l'altro Non 60 parti Da dire 20 minuti Ciascuno Come magari O 15 Addirittura Come un tempo Passiamo Gli youtuber No I game player Assolutamente Si intende Parte In media Un video Di blaster hd Tra i 30 E i 60 Minuti Quindi dopo 50 passore Di gioco Circa Capisco Che ci sia Un po' Un magone No Quel sentimento Da dire No ma io ne voglio Ancora Ne avrete Sappiato Solo ho preso la decisione Ripeto Che Non so quando In maniera molto casuale Senza una periodicità Ma spero con costanza Insomma Senza Disperdermi Nell'antro Di youtube Delle live Li voglio andare a vedere Già che ci sono Perché Sono andato un po' A sentimento Che ci fosse qua David Evans Ma non mi ricordo Dove sarebbero le altre Ma non sono appunto Le uniche E le amichevoli Di David Evans Comunque sono tante E Ora ci devono di capire Ecco Abbiamo L'All Stars d'Asia La brigata Brooklyn Poi ci sarebbe L'All Stars d'Europa La Gruppo A La Kids Football Club Plus Insomma Gli giocatori Poi Ne è pieno Di sfide Poi ci sarebbero Le amichevoli Da Lina Schiller Le amichevoli Da signor Firewheel Che però bisogna Sbloccare il biglietto Battendo la Neo Japan Ok Poi Se doveste mai Succedere Dovrò cercare Questo biglietto Il torneo Di Gregory Smith Addirittura Che era E per me È ovviamente Nei miei ricordi Il detective Che ci ha tanto aiutato Qui utilizza Austin Perché mi sa che Axel Non aveva più Punti Quindi ci vado un po' Con Hobbs Poi abbiamo anche Le amichevoli del robot Davanti al club di calcio Della Raymond Che si battono Che si battono le squadre Andando in giro Per la città del Giappone Ah Quindi è un po' Un po' come se fosse Veteran Vi ricordate In Azuma Eleven 2 Qua c'è questo robot Prima dovete Che so battere La brainwashing Però in giro Per la mappa Non so bene dove E poi tornare Da questo robot E poterle rifare Poi vi è Il super torneo Di Sony Raymond Che si trova Al secondo piano Di Ficcio Raymond E per esempio Abbiamo anche Matador Scarlatti Che è L'amichevole della Spagna Ma poi anche Squadre come Gli Under 12 Quindi dei bambini O la super triple A C La squadra canon Addirittura E poi attenzione Non siamo Abbiamo mica finito L'amichevole di Julia Blaze Quindi la sorella di Axel Con la super otaku La squadra Blaze Oddio Simpatica E dai Cioè Secondo me Può essere interessante Andarle a fare Piano piano in live Però non chiedetemi Di fare il gameplay Capite bene Che abbiamo già Il salvataggio pronto Per allenarci Per giocarci Per Così per passare Un po' di tempo Perché Devo rifare il gameplay La guida Cioè spero davvero Mi abbiate capito Non ce l'ho con nessuno In particolare Ma è solo per farvi ragionare Secondo me Quello che dico Non è Impossibile da capire Anzi Poi abbiamo Le amichevoli misteriose Con un robot Nei sotterranei Della Raymond Sì Quindi bisognerà andare Se non vado errato Ora un po' la nebbia appannata Ma Vicino alla sede del club Ma nel sotterraneo Nella cantina Ove si sono allenati In segreto I giocatori E poi ancora Un altro super Toneo fantastico Così chiamato Con un robot All'entrata Dell'istruttore Raymond Ove anche qua Bisognerà battere le squadre In giro per lì O cotte E poi tornare qua Mamma mia Però Tra l'altro La selezione All Stars Che è L'ultima sfida Leggo qua Bisognerà scaricare il biglietto Tramite Teno Network Vabbè Qui eventualmente Se mai arrivassi A questa O anche Dark Emperor Posso sfidare Se mai arrivassi A ciò E non trovassi Il modo Di Avere la sfida O mi cito Il biglietto Oppure vogliamo trovare Come io possa Andare a Prenderlo E sono tante Comunque Sono tante Tante Tra l'altro Questa qui è una guida Relativamente recente Parliamo del 2017 Sto guardando Qualcuno ancora Di recente E ci ha giocato L'ultimo messaggio Aglio 2021 E senza l'altro Quel ragazzo Che ha fatto la guida Cinque anni fa Ha ancora risposto Quindi Diciamo Un po' di fermento Ci è sempre stato Legato a Zoom Eleven Solo che I forum Purtroppo Negli ultimi anni Sempre meno Sono frequentati E soprattutto Da Ormai Ragazzi cresciuti Come me Io amo i forum Io preferisco i forum A Facebook Perché comunque Sui forum C'è anche un dialogo Un confronto Delle conoscenze Facebook Ma così come Instagram TikTok Io manco Ognuno Nell'altro Mi è mai interessato Sono roba Per Giovani Giovanissimi Che io Non mi ritengo più In quella fascia di età Sono ancora giovane Sì ma Sono rimasto Legato molto Ai forum Perché comunque Quei forum Ho conosciuto Molta cosa di persone Mi sono adattato Al mondo di internet Insomma Un bellissimo Ricordo Dei forum E dunque Arriviamo Anche Ad aver fatto Questa sfida I giocatori Comunque Possiamo vedere Sono a livello 80 Quindi C'è poco Poco da fare Anche se non mi torna Forse è un bug Accaduto Perché io abbia L'esperienza Buggata Appunto A livello 80 Cosa si è successo Non lo so Eppure è successo Che cazzo è successo Cioè per dire Gli altri giocatori Sono normali Tranne torce Ma loro Sono All'80 Buggati così Avrei dovuto vedere Anzi potrei In effetti farlo Vediamo se Spunta una sfida Dovrebbero esserci No? Le sfide semplici Quelle casuali Dai Spuntamene una Allora Volevo vedere una cosa Ovvero Mark13837 È la sua esperienza Che ha Io Non mi ricordo Se le sfide Spawnano così a caso Se spawnano A me pare di sì Dai Non ci posso credere Che non vi siano Non mi pare Così a ricordo Che abbia inserito Qualche elemento Qualche fascia Ecco che mi Evitasse Le amichevoli Ok Non farti rubare la palla Ma così Per curiosità Voglio vedere Se l'esperienza sale Se È a un punto Morto O meno Ok Sono sfide Queste un pochino Noiosette Ma vanno comunque Fatte E Shonu viene preso Ma noi ovviamente No Passa un bravvolgente Ma perché Ma che livello è l'avversario Io ho convintissimo Di riuscire a passare Sono difficili qua Le sfide Attenzione Beh che poi è uscito Proprio il Kotarl Che Penso sia La zona più Forte Più tosta Però Avevo questa curiosità Cavolo La classica sfida Segna un gol Non c'è Fai un gol Ne fai due Piuttosto anche Boh Aspettiamo la sfida Eccola Ruba la palla Questa qua Già è un pochino Più fattibile Tra l'altro Sono giocatori Questi Sia Quelli di ora Che quelli precedenti Che non avevo mai visto E è uscito La città nuovo E che tra l'altro Ci andano a fare Cioè Non è che si tirano indietro Devo dire che Wow Non mi aspettavo Tali impegno Da parte loro Onestamente Poi sono molto Arrugginito Io qua E che diamine Dai Caleb Guarda Anche se gli fai malissimo Non importa Tanto qui non c'è Il fallo L'arbitro Ok Prendiamo I nostri punti esperienza A me in realtà Guardate C'è qualcosa Ci sono dei punti esperienza Che salgono Che scendono Non lo so Però Sembrano un po' Buggati Sembrano Vediamo un po' Sì Ha aumentato Perché non era così Era 13 837 Quindi un 100 L'ho presi Boh Vabbè Non so cosa sia successo Ma Non importa Alla fine il bello Di Nazoom 11 È giocare Amichevoli I livelli Poi si sbagheranno Forse Non ho idea Tra l'altro Queste qua Sono anche sfide In realtà Piuttosto Semplici Ma è giusto Farle Piano piano Io vi ringrazio Vi saluto Spero che questo gameplay Vi abbia reso un po' Chiaro l'idea Del perché Io ecco Ripeto Non porterò La guida Il gameplay Nuovamente Non avrebbe senso Sono a 2.023 Ci salutiamo E niente Vi aspetto Con un prossimo video Una prossima live Ciao ciao